YOLANDA SWEETS slime che mi hanno anche suggerito esattamente io siccome leggo sempre i vostri commenti lo sapete che io li leggo sempre anche se non vi rispondo molte volte ma io li leggo tutti i commenti sempre quindi oggi ho qui tutti gli ingredienti cosa faremo? Daniele mi venderà andrà a mischiare tutti gli ingredienti e io consigliandomi con il mio consigliere che è Daniele non posso neanche andare a toccare l'ingrediente tipo la sfida se no è troppo facile devo andare a pescare direttamente l'ingrediente dal tavolo senza sapere cos'è possiamo dirlo questa sfida sarà molto a sedere molto a fortunella quindi non ci incistiamo e iniziamo dove ho messo la bella 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 amico se non ci posso andare vai ok prova tacchete 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 eh niente da fare adesso come dobbiamo fare? come vuoi fare? come dobbiamo fare? niente adesso io mi alzo mi metto dietro la telecamera cosa vuoi? un cucchiaio o la spadolina? ok e niente ti metto io gli ingredienti sì non è ancora sì vabbè comunque ora vedete cosa dobbiamo scegliere ovviamente la base del nostro slime oddio ragazzi ma voi non mi vedete ma io sono bendata si vede se sono bendata ma più avanti fai vedere dimostra? si si vede la tua cavocia ok la mia capociola allora ecco qua le due colle ok ok ora adesso te le metto davanti e tu dovrai scegliere con abilità vai così si vede vai decidi quale vuoi devo la mette così fai una mano no fai una mano questa ok no con la trasparente la trasparente aiuto raga ma si vede bene in telecamera? si si vede non so quante ne metto non sto mettendo è parecchio oddio ho paura aiuto adesso devi mettere il resto delle si ok vabbè che gira fa mi stai mettendo no però così c'ho la percezione è un po' complicato adesso ti vado a mettere tutti gli ingredienti davanti che tu non sai quali sono no no allora diamoci un limite quanti ingredienti posso pescare massimo 5 5 ingredienti? si ho 5 4 è solo che non c'è spazio vabbè te li metto tu fai con la mano vabbè mettili pure davanti qua mi faccio più dietro dai ragazzi fai con la mano tipo sai i giochini che stanno esatto si vede la telecamera? si vede si vede si vede tutto si vede oddio preso il primo madonna ragazzi adesso usalo dopo usalo dopo prendiamo i miei ingredienti dopo prima gli ingredienti ok vai col primo secondo preso gel per capelli gel per capelli oddio ragazzi stai combinando che è successo? vai alza il braccio e fai farina no ragazzi questo è lo svegli più sfigato nei episi 3 vediamo se riesci ad appararti hai preso la lozione corpo ok te la ammorbidisci e sono 4 oh oddio che altro fai mi mischiare c'è l'amido di mais però secondo me non è giusto se provo a ciappi un'altra volta si ok ho tolto l'amido di mais perchè hai già preso la ferna vai vediamo schiuma da barba siiii c***o sono 5 adesso che devo fare adesso dobbiamo fare allora quindi verrà bianco perchè non hai presi coloranti no non ho presi coloranti eh è vero vabbè però se a po' il detersivo magari riesce in un po' più azzurri cioè avevo bisogno per forza di Daniele per fare questo video altrimenti era veramente un casino si detersivo da ammirare che non è più quello del solito non è più il perlano ma il dixano lo dissi anche in un video questo e questo no vai direttamente senza fare questo non so cosa centro detersivo si vabbè detersivo niente cito a volgo e niente soluzioni allora inizio a mettere la schiuma vai Yolanda dove è la ciotola io non vedo niente dove è la ciotola davanti a te allora iniziamo a mettere uno due tre ok schiuma andata vai io la faccio da assistente non vedo ok ragazzi guardate sono si vede che sono con la benda schiuma da barba schiuma da barba schiuma da barba ok se lo c'entri si vai dai c'entra dai c'entra da me ok sarà lo slime più sfigato della storia oddio aiuto però chi bella poi un po' di gel per capelli si e lo so si è sceso basta un sacco di gel questo non si addensera mai cosa manca ah la crema si vede si si uno due ok è profumato è bello biancoso si è biancoso mmm profumo farina farina un po' di farina fanno mettere troppo non so quante ne ho messo eh non poca vabbè vai mischi a mischi vedremo vedremo cosa uscirà da questa challenge gira 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 bene vai vai sta girando bene? si si no mamma no però non sembra male no no e per finire detersivo eh ma mi sa che me lo devi mettere tu nella boccettina sai va bene allora l'aiutante aiuta però poi vedi tu vuoi metterli eh certo io lo devo mettere aiuto vai sensazione lo tocchi col dito vai si sta densando più o meno non mi senti però mettila un pochino in più si sta densando? mi sembra un pochino si un pochino si si sta densando vai 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 inizi a sentire che è un pochino più solita la parete si 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 sta densando oddio raga si sta densando che culo ahahah ahahah vai 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 quanto ne ho messo? eh un po' vabbè però è ancora liquidino quindi ancora ce ne vuole vai 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 lavora 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 si sta densando lo sento? si si è vero è vero è ufficiale sta densando lo sento aspettate ma ce ne sta ancora di vedersi dentro? si ce sta ancora di vedersi dentro si si da qua oddio aspetta lo sento si sta densando un sacco ooooooh sta venendo sta venendo? si si oddio lo sento aspetta sento che sta venendo vedi un po' con le mani uuuuuh cioè ragazzi incredibile possiamo dire che culo c'è venuto c'è mamma mia ragazzi no ma che davvero è proprio la regione degli slime le vengono anche da bendata aspetta aspetta incredibile è venuto aaaaaaah è venuto fluffosissimo che ammazzo ragazzi eh eh anche da bendata li sa fare che cosa vogliamo fare? fammi vedere che sto bendata fagli vedere dimostriamo saldo 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 aiuto la mia da niente ecco si è bendata con lo slime ahahah incredibile ragazzi oddio possiamo dirlo che fortuna che fortuna ahahah direi che è arrivato il momento vabbè basta dai sbendiamoci e torniamo sbendami sono proprio curiosa di vederlo non l'ho visto facciamo anche la reazione la reazione a lo slime bendata oooole ooooooh ahahah la faccia la faccia ahahah è bellissimo è venuto quindi questa potrebbe essere anche un'altra ricetta in realtà a fortuna hai fatto un'altra ricetta ho fatto un'altra ricetta cosa ci ho messo non mi ricordo più sono qua gli ingredienti ah ok non so mai scrivi lì da qualche parte ok magari me li scrivo in descrizione ok ragazzi eccoci qua ooooh ragazzi hai avuto proprio sedere in una maniera incredibile incredibile che sedere rumore l'avessi fatto io sarei dovuta una schifizza la prova rumore superata la prova costume superata no allora facciamo una cosa facciamo una cosa vai arriviamo a 3000 like fattibile fattibile arriviamo a 3000 like e la sfida la sbendiamo la sfida Daniele la sfida Daniele è slime bendato la faccio io la fai bendato Daniele sfida slime bendato a me è riuscito eh quando perchè non lo so sei la queen no perchè sono abituata sai le quantità uno vabbè la farina più o meno è stata un pochino hai messo molta farina non lo so sono riuscita diciamo a toccare un pochino il cucciaio per vedere più o meno la dose ma non è che uno lo sa proprio il detersivo sono andata a non posso dire occhio perchè ero bendata oh oh Diciamo che sono andata molto a fortuna con i detestivo ho versato piano piano perchè potevo anche persarlo tutto però siccome io No, poi si induriva sui elementi vitrofici Sì, perché siccome... Ah, ragazzi... Da qua, cioè... Incredibile... Levanta super... Eh, un pochino, però si attacca ancora alle mani Vabbè, sì, un po' giù Bello, bello, bello Grazie per i suggerimenti, per questo video Molto carino, bravi Bello, molto, molto carino Grazie a chi mi ha suggerito questo video È stato davvero una bella... Un'ottima idea Un'ottima idea Una bella idea E va bene, ragazzi, con questo è tutto Speriamo tanto che questo video, ovviamente, vi sia piaciuto E vi è piaciuto Come sempre, noi Per divertirci Sì, sempre Anzi, mi sono divertito un sacco Perché è stato davvero una prova E va bene, ragazzi Ma questo è tutto Con le mie mani sporche di slime Speriamo che il video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto, ovviamente Raggiungiamo i 3.000 like Mi raccomando Non so, come usciano i capelli? Oddio, sono scomminato E io, lei, non ti tocco I capelli Se raggiungiamo i 3.000 like Lo farà Daniele Lo slime vendato Ve lo garantiamo Ma come, immagino Vi faccio gli scherzetti Lasciateci Dovevo fare il pregio Con una certezza diversa Lasciateci quindi Un bellissimo like Un commento sotto Per farci sapere cosa ne pensate Se il video vi ha divertito Noi ci siamo divertiti da matti Noi vi mandiamo un enorme Bacio e un abbraccio fortissimo A tutti voi cuoricini pucciosi E noi, come sempre Ci vediamo domani Alle 14.30 Con un nuovissimo video Bye 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 bye